La Piazza della Libertà diventa sempre più il cuore della città. Diamo vita alla piazza con luce e spettacolo. Si accendano le luci di piazza. Riuscire a trovare un'espressione della luce che sapesse trasmettere a tutti la voglia di stare insieme, la voglia di integrarsi e aggregarsi. È un progetto iniziato nel 2018. Questa prosecuzione per noi rappresenta la conferma di un rapporto con il territorio molto importante. L'idea era di far percepire tutto l'ambiente architettonico come un vero rapporto tra ambiente e cittadino. Fare un piano della luce significa dare un'identità alla città, individuando quelli che sono i punti che sul piano culturale, sul piano del vissuto, potevano segnare la vita e l'attrattività della città stessa. C'è alle spalle una ricerca molto importante dal punto di vista del tessuto culturale, del patrimonio artistico e del patrimonio architettonico. Stiamo parlando di una piazza composta di più edifici architettonici di diverse età storiche. Abbiamo ricostruito completamente e digitalizzato tutti i prospetti degli edifici. Il primo obiettivo è stato quello proprio di far vedere tutta l'architettura che era presente, dando risalto poi ai punti di pregio. Stiamo parlando di 5.000 watt su 222 prodotti installati. I prodotti sono tutti a LED. È possibile gestire il colore della luce stessa. Parliamo di variazioni che noi possiamo gestire addirittura con una tecnologia, una dimerazione direttamente del prodotto singolo. Proprio per creare una uniformità dell'impianto e quindi della visione. L'Accademia è stata la possibilità di dimostrare che vive in osmosi con la città, in rapporto con il territorio. È il modo per dimostrare quanto l'Accademia riesca ad essere all'altezza di tanti progetti di livello nazionale e anche internazionale. La città in questo modo diventa una città-villaggio, una città vissuta, partecipata, una città che riesce a comunicare con chi la circonda, con chi arriva, ma soprattutto con gli abitanti. È una luce che accompagna e che davvero fa da sfondo a un rapporto umano, a una relazione positiva. Grazie.